Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi sono i compagni di Riccardo, conosciuto su Instagram, e Guglielmo, conosciuto in corso volontario ambulanza o anche in palestra, insomma. Siamo partiti da Stagno con l'obiettivo di arrivare sul Monte Bisvino e vedere il tramonto dalla vetta. Grazie a tutti. Comincia a rampare. Uno l'abbiamo perso. C'è, c'è, per raccogliere i porcini. Stavo facendo le foto. Eh, ho visto che stavi facendo le foto. Non siamo altri come generoso, ma quasi. Quasissimo. Arrivati. Però ci vuoi andare di là per il tramonto. Esatto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.